E perché siamo distrati? Siamo solo tu, forte, oh, dammela, bravo, tolta veloce, la, ti deve essere così, e perché non sarai, ok? Lato, è veloce, veloce, dammela, veloce, dammela, ti devi far trovare un po', faccio un po', dammela, tolta di parte, veloce, solo bene, oh, da l'altro posto di lavata, E poi, come se? Aiuta, in un'altra parte, mi angelica, mantieni l'altra parte, e lei li ho iniziò, loro ti ho iniziò, bere un attimo a fare un'altra parte, e lei li ho iniziò, vai, nuova, vivere un attimo a fare un attimo a fare un attimo a fare un attimo a fare il lato, ma è un attimo a fare un attivo a fare un attimo, mi ringrazio, guardava che corrimne, un attimo a fare un attimo a fare un attimo, settimana, fraазone, JSON, e iniziale,rian, sinora, gonno, non puoi sparire un attimo a fare un attimo da police, lato, see? Grazie a tutti. Grazie a tutti.